Musica Telespettatrice e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a casa Rossini, benvenuti in visione di Rossini TV. Siamo in diretta come ogni lunedì, mercoledì, venerdì con questa nostra trasmissione, questo nostro salotto che appunto per tre volte alla settimana in diretta ha la possibilità di farvi conoscere tanti ospiti e tanti personaggi. Ne abbiamo tre anche oggi che stanno aspettando di parlare con me e di conseguenza con voi, ma prima di incominciare come sempre abbiamo i contatti da darvi. 351-708-9977 è il numero per mandarci messaggi attraverso Whatsapp o fotografie o quello che preferite. Casa Rossini, chiocciolarossinitv.it è la nostra mail dedicata al programma. Oggi è il 26 febbraio, è il 57esimo giorno del calendario gregoriano dell'anno. Mancano 308 giorni alla fine dell'anno. Uno secondo personologi è il giorno dello scuotimento. Non è nessuna giornata in particolare tra le celebrazioni, giornate civili, mentre la Chiesa Cattolica celebra San Faustiniano, che è stato il secondo vescovo di Bologna nel 300, rafforzò e fece crescere con la parola della predicazione la Chiesa oppressa dalla persecuzione. L'evento storico che abbiamo scelto per il 26 febbraio è la scoperta dell'Australia, 1606, a opera del navigatore olandese William Jansson, 1570-1630, appunto che sul finire del XVI secolo prese servizio nella compagnia olandese delle Indie orientali. Nel 1605 una spedizione esplorativa a bordo di quella nave che avete visto in replica, quella che avete visto prima è una replica attuale della nave, secondo i disegni appunto dell'epoca, lo portò a sbarcare sulla penisola di Capo York in Australia, da cui tracciò la mappa credendo che si trattasse di una estensione verso sud della Nuova Guinea. Le grandi scoperte sono state sempre fatte per sbaglio e credendo di aver scoperto qualcos'altro. Il 18 novembre 1605 salpò con questa Duifken da Bantam verso la costa occidentale della Nuova Guinea e il 26 febbraio del 1606 appunto sbarcò sulle rive del fiume Penfaser vicino all'attuale città di Veipa. Si tratta del primo sbarco documentato di un europeo sul continente australiano. Poi ha proseguito, ha continuato, a un certo punto ha capito che non si capiva dove sarebbe arrivato, è tornato indietro, quando è tornato indietro ha battezzato questa sua scoperta curiosamente come Nuova Zelanda per ricordare la provincia olandese della Zelanda da cui lui veniva. Questa denominazione però non ha avuto successo, è stata sostituita di lì a poco con la denominazione Australia, mentre è stata recuperata come Nuova Zelanda da un altro esploratore, Abel Tasman, che ha battezzato così quella che oggi noi conosciamo come Nuova Zelanda. Il pensiero del giorno scuotere gli altri comporta immense responsabilità. A questo punto abbiamo concluso questa nostra piccola fase introduttiva, andiamo a conoscere velocemente, perché lo conosceremo meglio tra l'altro dopo un secondo e vi dico come, andiamo a conoscere velocemente il nostro primo ospite Stefano Gottin. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno Pagnini, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori. Del quale però, attenzione, abbiamo deciso per ora di non dire nulla perché lo facciamo presentare da un video magnifico che ci ha portato e dal quale poi inizieremo la nostra chiacchierata. Buongiorno Stefano. Eccoci, allora, ne abbiamo fatto vedere un frammento, il video sarebbe molto più lungo, siamo con Stefano Gottin e allora a questo punto gli chiediamo perché questo video, cosa c'entra Lampedusa e a che titolo hai portato a noi questo video e vieni a raccontarci della tua Wunderkammer Orchestra. Bene, ringrazio i miei saluti e ringrazio. Perché Lampedusa? Perché nel gennaio 2017, sulla base di un'idea di Paolo Marzocchi, compositore, pianista, pesarese, che gode di una adeguata notorietà, una bella notorietà, direi a livello nazionale e non solo a livello nazionale, e abbiamo costituito la Wunderkammer Orchestra, quindi un ensemble di una dozzina, una quindicina di strumenti, che ha debuttato appunto a Lampedusa in occasione dell'inaugurazione di un pianoforte che era stato donato a seguito di una raccolta fondi, che era appunto stata patrocinata, proposta, alimentata da Paolo Marzocchi, e quindi facciamo il nostro debutto a Lampedusa con la nostra orchestra appena costituita, con musicisti in parte marchigiani, ma anche in gran parte attinti da altre compagini, importanti compagini fuori dalle marche. Qui vediamo una foto, abbiamo visto poc'anzi, un coro di bambini che era stato istruito da Paolo Marzocchi, che vantava appunto una collaborazione con il comune di Lampedusa per conto del Ministero dell'Istruzione, che datava da qualche anno, e quindi aveva addestrato, allenato, istruito questi ragazzi, che si erano prodotti in corali di Bach, trascritti da Marzocchi per la circostanza. Allora, avete costituito questa realtà quattro anni fa, per cui è relativamente giovane, con un gruppo di fondatori, otto soci fondatori, e di questi però solo due musicisti. Sì. È curiosa, no? Un po' questa cosa. La prima cosa che io ho fatto, quando ho conosciuto Stefano Gottin qualche giorno fa, al telefono per preparare questa cosa, ho detto, alla fine della chiacchierata, che strumento suoni? E lui mi ha detto, no, no, io non suono, io sono il presidente e l'organizzatore, e seguo tutta una parte che è molto importante, capiremo poi perché è così importante, perché noi siamo strutturati in modo da avere tutti i punti coperti anche da non musicisti. Sì, io ad esempio... Microfono, microfono. Al secolo sono avvocato, sono ex manager del mondo del credito, ho lavorato per tantissimi anni in Banca Mar, che sono metà pesarese, metà torinese, e perché siamo strutturati in questo modo? Perché Marzocchi e altri amici musicisti, che io poi ho conosciuto, per conseguenza hanno ritenuto che bisognava puntare sull'organizzazione, non bisognava partire dalla musica per far musica, hanno pensato che fosse necessario partire dagli aspetti organizzativi, quindi hanno chiamato me, poi abbiamo coinvolto altri professionisti, che erano preoccupati perché magari sapevano poco di musica, io ho detto, ma di musica? Poi c'è Marzocchi, poi lasciamo perdere che io sono un grande appassionato di musica, ma questo, diciamo che il mio ruolo non ha a che fare con la componente artistica. Per la musica c'è Marzocchi, che è il direttore artistico, ci sono alcuni musicisti che stanno in consiglio, quindi noi in consiglio abbiamo due musicisti e Marzocchi che fuori consiglio investe di proponente in quanto direttore artistico, che quindi elabora le iniziatette, le propone il consiglio, il consiglio le delibera. Cioè abbiamo una struttura abbastanza aziendale, questo risente dal fatto che io stesso e altri consiglieri proveniamo da realtà aziendali. Però è molto importante, perché poi in effetti fare musica ha una connotazione ben chiara, ma poi andarla a proporre, come fate voi, strutturare un'organizzazione come la vostra, necessita appunto di competenze speciali. E poi devo dire che un po' comici trovano, io per scherzo, chi mi conosce lo sa, per scherzo faccio una battuta e dico se sapessi suonare sarei un grande musicista, perché l'indole, la passione, la musica che sento dentro è forte, però io poi dopo non riesco a tirarla fuori suonando, E allora il modo di stare molto vicini e molto affini a quello che è, è magari appunto organizzare attività musicali, stare con i musicisti, avere un po' a che fare. Questa è un po' la chiave che hai trovato e che avete trovato voi nella Wunderkammer. Sì, diciamo che poi io sono in una posizione abbastanza di vantaggio perché quando parlo del direttore artistico direi che so sempre di che cosa parla. Però poi il ruolo è quello di, il mio ruolo è di coordinamento di carattere organizzativo. Poi tenete presente che noi ci avvaliamo anche di figure professionali di primo ordine che stanno fuori dal consiglio. Noi abbiamo come esperta e incaricata di seguire la comunicazione esterna abbiamo Andareina Bruno e abbiamo poi Agnese Franchini che è una giovane socia che si occupa di tutte le illustrazioni e della grafica e quindi calendari, locandine, manifesti e quant'altro. Quindi abbiamo dedicato molta attenzione anche a questi aspetti e poi magari ecco per esempio questa è una locandina per un evento che avrà luogo a Tolentino al Politeama il prossimo 13 marzo è un evento musicale letterario dedicato a Emilio e a Joyce Lussu ed è in collaborazione col Centro Culturale Sardo di Milano e con la Regione Sardegna ad esempio e quindi naturalmente col Politeama di Tolentino. Sono sicuro che c'è qualcuno all'ascolto stupito un po' meravigliato che magari non conosceva e che cerca di memorizzare le cose che stiamo dicendo. Ecco questa per esempio è l'immagine del mese se non erro di marzo del calendario artistico 2021 ed è se non erro il Macbeth di Giuseppe Verdi perché noi abbiamo dedicato il calendario 2021 alla figura di Giuseppe Verdi del quale ricordo ogni 120 anni dalla morte nel corso di quest'anno. Certo ci stavo arrivando appunto perché dicevo se siete incuriositi naturalmente potete senza mettervi lì con la pena prendere appunti cosa che immagino improbabile a quest'ora del mattino però potete o rivedere qualche replica nella quale riascolterete le cose oppure andare anche sul sito perché c'è un sito molto completo Wunderkammer io continuo a dire orchestra sbaglio? Ma va bene va bene un po' di tono d'altra parte vi chiamate Wunderkammer voglio dire Wunderkammer delle meraviglie perché ci chiamiamo così perché è un gioco di parole intanto musica da camera quindi kammer musica da camera delle meraviglie poi la camera della meraviglia era quella stanza dove i nobili e i più abbienti nel 500 nel 600 nel 700 conservavano tutta l'oggettistica più stravagante che potevano che potevano riferire e l'abbiamo battezzata in questo modo anche perché francamente già c'erano due orchestra intitolate Gioachino Rossini non ci sembrava il caso di replicare di continuare a sfruttare Gioachino Rossini che pure nei nostri cuori e nei nostri programmi direi proprio di sì Wunderkammerorchestra.com è il sito e arrivavo appunto a quella immagine del calendario perché nel sito quando si arriva sulla home c'è da cliccare o su orchestra o su design e uno dice cosa c'entra? No c'entra perché voi avete fatto uno studio importante anche su una linea di arte visuale Assolutamente sì perché il suono va accompagnato alle immagini la comunicazione va accompagnata dalle immagini pertinenti noi siamo molto fortunati perché abbiamo professionisti di eccellente qualità e lavoriamo in un clima di totale condivisione amicizia a un punto tale che come magari spiegavo qui all'ottimo intervistatore a Pagnini siamo diventati anche abbastanza attrattivi nei confronti di altre compagini associative tant'è che recentemente abbiamo fatto una operazione di fusione con l'associazione di danze antiche che ha sede a Milano e ha un importante distaccamento qui a Pesaro e praticamente ci hanno chiesto di confluire nella Wunderkammer Orchestra per cui abbiamo creato una struttura divisionale al nostro interno e una divisione dedicata alla danza appunto in quanto abbiamo effettuato abbiamo perfezionato questa operazione di fusione ADA questo è l'acronimo associazione di danze antiche è un'associazione molto significativa molto importante perché si occupa appunto di danza storica si avvale di professionisti di altissimo livello internazionale come Bruna Gondoni ad esempio che è stata nominata in questi giorni referente artistica della divisione danza e quindi collaborerà con Paolo Mazzocchi per quanto riguarda gli aspetti coreutici che a questo punto fanno parte della famiglia del ventaglio di proposte della Wunderkammer che quindi propone opera concerti di musica da camera conferenze progetti culturali poi magari se abbiamo occasione e tempo vi parlo di un progetto culturale realizzato un paio di anni fa che è molto significativo che dà un po' l'idea anche della freschezza del taglio della Wunderkammer ci stiamo muovendo bene nei tempi giusti per cui adesso Andrea della Regia ci sta facendo vedere un filmatino un breve filmato appunto sulla danza ma noi abbiamo un filmato anche da vedere e ascoltare vogliamo vederlo e ascoltarlo adesso proprio sul tema della fusione tra la musica e la danza antica ma va bene direi che è un'ottima idea grazie a tutti a tutti a tutti un filmato e la famiglia Visto questa fusione, suonavano e poi ballavano, insomma c'è stata questa fusione qualcosa di più di un accordo, avete fatto proprio l'incorporazione dell'associazione. Sì, abbiamo colto l'occasione, già collaboravamo con l'associazione Danze Antiche e questa operazione per noi ha comportato un incremento dei soci che sono passati da circa 170 a 270, quindi oggi siamo a 270 soci distribuiti in gran parte qui nelle Marche, Pesaro nelle Marche, ma anche percentuali significative sono distribuite su altre regioni italiane, c'è un polo importante appunto portato all'interno di Wunderkammer Orchestra da associazioni Danze Antiche, su Milano ad esempio, per cui per noi vuol dire una grande apertura anche fuori dalle Marche, dove appunto possiamo cominciare a contare su uno zoccolo duro di soci nel Triveneto, in Lombardia, in Piemonte, a Roma ad esempio, abbiamo anche qualcuno a Napoli. Questo apre un ventaglio di prospettive, di opportunità molto interessanti, perché tanto per dire abbiamo il progetto di andare al castello di Gesualdo, che è stata a residenza della famiglia Gesualdo, cui apparteneva Carlo Gesualdo da Venosa, celebre per essere stato nel Cinquecento musicista di stratosferica importanza, ma anche per aver ucciso la coniuge per una questione di tradimento, e figuriamoci che poi Gesualdo era anche il nipote di San Carlo Borromeo per parte di madre, quindi voglio dire una famiglia dove c'era veramente di tutto, potevi avere contemporaneamente un grande santo, un criminale che al contempo è stato anche un grandissimo musicista, quindi ecco lì abbiamo l'opportunità di realizzare una gita, non so, la reggia di Caserta a Pompei Ercolano, dico per dire, e a Gesualdo con uno spettacolo di musica e danza del Cinquecento, magari con qualche chicca particolare che si inventa il Marzocchi, che ne sa una più del diavolo, per nostra fortuna, perché riesce sempre a coniugare la modernità, il nostro diritto artistico, con la musica direi di ogni epoca, ecco, quindi... Vedete come stiamo scoprendo progressivamente questa meraviglia, Wunder, non a caso, questa meraviglia che ha nelle sue caratteristiche proprio avere più aspetti e in questo senso avere anche la possibilità di coinvolgere molti soci anche nella fruizione o nella realizzazione e gli aspetti sono parecchi e adesso cominciate a capire probabilmente perché per gestire una cosa di questo genere è necessaria anche una mentalità abbastanza imprenditoriale, perché la cosa è un po' complessa. Dobbiamo stare molto attenti ai costi, ovviamente, perché di soldi ne girano pochi, anche perché poi ci sono altre priorità in questo mondo, quindi è comprensibile che di soldi ne girino pochi un po' dappertutto, perché di obiettivi da coltivare la società ne ha molti in questo periodo, ha degli obiettivi che riguardano la salute che ovviamente hanno la precedenza. Ad ogni buon conto la Wunderkammer Orchestra ha appunto cercato di darsi una dimensione, un taglio tale da essere anche attrattiva nei confronti dei giovani, per esempio, noi su 270 soci abbiamo circa un 10% di soci sotto i 30 anni e questo è un dato fondamentale, di cui siamo molto fieri, molto orgogliosi, perché quello che è stato fatto in Italia contro la musica d'arte, contro la musica classica, contro l'opera lirica, in spregio anche le nostre migliori tradizioni nazionali, ha provocato un'alienazione, un allontanamento da parte di tante componenti della società, fra cui i giovani, perché si è voluto far passare che è musica per vecchi, poi non si capisce perché deve essere musica per vecchi, della musica che è stata composta magari da autori che avevano 20 anni, non so, pensiamo a Mozart, a Schubert, allo stesso Rossini, a 40 smesso, a 37 anni Rossini ha composto l'ultima sua opera e poi ha campato fino a quasi 80 anni, quindi voglio dire, è musica scritta da giovani e necessariamente è una musica che conserva anche dopo 300, 400 anni, 200 anni o anche meno, una freschezza incontrovertibile e non si capisce perché si deve far passare da certi operatori, che è, ma qui anche la scuola ha qualche responsabilità, ecco perché... Devo dire comunque che nella nostra città si respira un'aria un po' diversa, no? Grazie a tutte queste azioni che vengono fatte legate a Rossini, lunedì avevamo, o mercoledì adesso non ricordo, il direttore del conservatorio, cioè c'è comunque un'attenzione appunto alla fruizione... Anche volesse non può fare a meno della musica, esatto, per cui diciamo che forse noi facciamo razza un po' a parte rispetto a questo discorso sui giovani, però sicuramente l'operazione che state facendo è meritoria e soprattutto dà la possibilità appunto di fruire di qualcosa di realizzato in casa, insomma l'associato, il socio, cosa può fare? Che ventaglio di possibilità ha il socio della Wunderkammer Orchestra? Il socio intanto ha maturato la consapevolezza di essere uno dei committenti di nuova musica, perché noi fra l'altro commissioniamo la trascrizione di partiture del passato, che sono state magari composte per grande orchestra, e per poterle proporle in contesti piccoli, in ambienti che non sarebbero idonei a ospitare una grande orchestra, ecco, Wunderkammer può prodursi, può proporsi con il proprio ensemble, sulla base di trascrizioni che normalmente commissioniamo. Finora mi pare che non ci siamo mai a balsi di una trascrizione già fatta in passato da qualcun altro, che non sia del nostro circuito interno, ma anche commissioniamo nuova musica, per esempio al jazzista Arcelli abbiamo commissionato un concerto, lo stesso Carlo Tenan, che è il nostro direttore musicale, direttore d'orchestra, direttore dell'ensemble, abbiamo commissionato un concerto per pianoforte orchestra, per big band, ecco, poi fra l'altro anche facciamo queste operazioni borderline, per esempio c'è un programma bellissimo musicale, bellissimo, dedicato agli americani, a Gershwin, Bernstein, tutto trascritto per ensemble da 12 strumenti più pianoforte, e ci siamo prodotti in questo senso, con questo programma, anche alla Sagra Malatestiana di Rimini, nel 2019, ci è saltato poi un concerto tutto dedicato a Beethoven a novembre del 2020 per motivazioni Covid, speriamo di poterlo recuperare, e mi auguro vivamente che il concerto del 14 maggio prossimo al Teatro Rossini, dedicato al quinto di Beethoven, e penso ai folks leader dello stesso Beethoven per celebrarlo, purtroppo con un po' di ritardo per le motivazioni sanitarie che conosciamo, ecco, c'è questo concerto appunto il 14 di maggio al Teatro Rossini, dove i pesaresi, e non solo i pesaresi, potranno vedere all'opera la Wunderkammer Orchestra con Paolo Marzocchi, che quel giorno celeverà poi i suoi 50 anni. Ecco, allora di questo prendete veramente appunto, questo segnatevelo, i biglietti si trovano... I biglietti si trovano, io spero che non si trovino, che vada tutto esaurito, in men che non si dica, però insomma si troveranno certamente. Esatto, esatto, esatto. Voi avete un curriculum molto ampio di attività, 15-18, me l'ero segnato mentre parlavamo al volo, 15-18 eventi all'anno, e dove per eventi voi intendete eventi prodotti, o anche la gita... Ci mettiamo dentro anche la gita, perché poi la gita, al proprio interno, ha sempre un concerto, un momento musicale. E una cosa interessante, per esempio, il mondo della musica è normalmente caratterizzato da delle forti gelosie, fra Tizio e Caio, fra questo e quell'orchestra. Noi abbiamo assolutamente cercato, e devo dire che siamo stati corrisposti in migliore dei modi, abbiamo cercato di superare questo modo di vivere le situazioni. È accaduto che siamo stati coinvolti nella giuria di un importante concorso lirico a Pienza, in Toscana, la cui presidente è Adua Veroni, prima moglie di Luciano Pavarotti, che mi invitò, in rappresentanza di Wunderkammer, a partecipare alla giuria. La Wunderkammer Orchestra, intesa come associazione, ritengo opportuno offrire ai vincitori un concerto qui in casa nostra, al Teatro Rossini. Dato che sarebbe stato complicato per noi realizzare le trascrizioni per un concerto del genere, e dato che non valeva la pena implementare i nostri organici per allestire una grande orchestra, semplicemente ci siamo messi in partnership con l'Orchestra Friarmonica Marchigiana. L'abbiamo scritturata, quindi siamo usciti con il doppio logo Wunderkammer Orchestra Form, loro hanno suonato, noi abbiamo messo il nostro direttore musicale a dirigere, i cantanti vincitori sono arrivati qua a Pesaro, li abbiamo ospitati, e abbiamo realizzato un concerto, purtroppo fu funestato da una serata di fine ottobre 2019, fu un'estata appunto da un cattivo tempo, per cui ci fu un grande successo, ma con meno gente di quello che si poteva sperare, quindi speriamo di poterlo replicare in condizioni atmosferiche migliori di quella sera. O in spazio protetto dalle condizioni atmosferiche. Sì, uno spazio protetto. Esatto. Allora abbiamo un paio di minuti per fare un cenno su questi progetti educativi, e su questo modo inedito di far comporre musica ai bambini, ideato dal vostro direttore artistico Paolo Marzocchi. Veramente un paio di minuti, purtroppo. Sì, due minuti. Fondazione Mast di Bologna, una fondazione che si occupa di alte moderna, si occupa di musica, espressione di un gruppo di società, di imprese che si occupano a propria volta di packaging, e la famiglia Seragnoli, che è a capo di questo gruppo. Paolo Marzocchi che cosa pensò? Pensò che se un bambino in età prescolare, in grado di inventare delle storie, delle fiabe, delle favole, pur non sapendo scrivere, a quel punto basterebbe mettere a disposizione uno scrittore, affinché le fiabe dei bambini possano prendere corpo, ha pensato di far inventare delle fiabe, delle favole, a dei gruppi di bambini di due, tre individualità, quattro, a seconda dei casi, e praticamente ha fatto loro disegnare, fatto fare dei disegni che illustrassero queste favole, e ha messo a disposizione la Wunderkammer Orchestra, i bambini hanno scelto gli strumenti, i timbri, le frasi, i ritmi, e Marzocchi da compositore ha recepito le indicazioni e ha montato sette piccole sinfonie. Queste sette piccole sinfonie sono state proposte in prima assoluta nell'auditorium della Fondazione Mastra di Bologna, parlo di giugno 2018, e venne per l'occasione Salvatore Sciarrino, che è uno dei grandi musicisti contemporanei, e successivamente noi abbiamo proposto, in stagioni concertistiche come Lugo, Ancona, questo programma, all'interno del programma, anche queste sette Little Symphonies, con le illustrazioni dei bambini in gigantografia che percorrevano lo schermo a commento visivo di musica, che è letteralmente musica d'avanguardia. Quella che dice Marzocchi, che fa scappare il pubblico, in realtà il pubblico non solo non è scappato, ma ne è risultato veramente entusiasta. Facciamo qui nel 2020, a febbraio, l'anteprima del concerto di Ancona, lo facciamo l'anteprima all'Annunziata. A questo proposito, devo dire che la collaborazione con l'amministrazione locale è ottima, perché ci sentiamo appressati, seguiti, e quindi colgo l'occasione per ringraziare sia il Comune di Pesaro, sia AMAT, che è l'Associazione Marche Teatri, ringrazio anche la Regione Marche, che ci ha erogato un contributo molto appressabile per la nostra stagione, che poi purtroppo si è un po' bloccata. Adesso abbiamo sostituito quello che è saltato con appuntamenti in streaming dal Teatro di Cagli e dal Teatro di Politeama di Tolentino. Comunque speriamo di riprendere presto l'attività. Certo. Per contattarvi, oltre che attraverso il sito, avete una sede che è aperta e sulla quale... La nostra sede è a Villa Vismara Currò, dove c'è il Giardino di Santa Maria. Ecco, una struttura del Cinquecento che è stata poi riadattata nel Settecento, è una sede magnifica che Gian Giacomo Vismara Currò, che è il proprietario, abita a Roma, ma ha degli addentellati importanti qui a Pesaro, ci ha messo a disposizione gratuitamente. Mi piace sottolinearlo, perché è stato veramente di una generosità incredibile. Per noi è una sede di rappresentanza. Noi qualche cosa abbiamo fatto in questa sede, ma contiamo oggi che è stata restaurata, è venuto fuori un magnifico lavoro, finanziato dal proprietario, gli va dato atto che per la cultura Vismara Currò fa moltissimo, lui, la moglie, sono entrambi i nostri soci, ovviamente. Quindi diciamo che quando si fa qualcosa, Villa Vismara Currò, lo facciamo sapere. Altrimenti i contatti con noi, come recita il sito, possono avvenire per email, oppure per telefono, c'è anche il mio cellulare a disposizione. Insomma, noi siamo sempre collegati, sempre contenti di entrare in contatto con nuovi amici, vecchi amici, tutti coloro i quali sono curiosi, soprattutto se sono dei neofiti curiosi in campo musicale. Molto bene. Io, come mi capita, quando entro in contatto con persone appassionate, che mi raccontano anche qualcosa di nuovo, non posso che essere entusiasta, considero questa mia cosa che faccio per Rossini TV, anche un corso, imparo un sacco di cose e questa è la parte importante che mi porto via, mi porto a casa. Spero che sia, mi auguro che sia la stessa cosa per chi da casa ci segue, perché queste cose sono importanti da sapere, da conoscere e perché no, anche da avvicinare. Allora, ringrazio Stefano Gottin per essere stato con noi a raccontarci della Wunderkammer. Adesso voi, quando vi imbatterete in qualcosa che riporta questo nome, ne saprete un po' di più e potrete dire io so di cosa si tratta e magari partecipare alle varie iniziative che vengono proposte. Bene, io ringrazio a nome anche del direttore artistico Paolo Pagnini, ringrazio chi ci ha seguito in questa puntata, dico viva Rossini TV, viva Pesco, viva la Wunderkammer Orchestra, viva tutti noi, insomma, affinché il futuro sia migliore, anche grazie alla musica e speriamo anche grazie a ciò che Wunderkammer tenta di fare, tenta di realizzare, speriamo bene. Grazie a te. Ce lo auguriamo. Adesso andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo con il prossimo ospite che è Alessio Giaccarini, il direttore generale di Cosmob. Restate con noi. Eccoci di nuovo, allora come promesso siamo col secondo ospite, buongiorno e benvenuto ad Alessio Giaccarini, direttore generale di Cosmob. Buongiorno, mi raccomando il microfono, vicino. Grazie. Così almeno ne riusciamo a far sentire anche a casa la nostra chiacchierata perché come dicevamo prima, ci si dimentica quasi della diretta, diventa una chiacchierata amichevole ma i microfoni servono per cui li facciamo arrivare. Allora, Alessio tra l'altro nome di origine greca vuol dire protettore. Facciamo ogni tanto questa ricerca e tra l'altro c'è un'altra cosa divertente che è una piccola tradizione che facciamo. Non la facciamo sempre ma ogni tanto o meglio la facciamo quasi sempre ogni tanto ce ne dimentichiamo ma di solito vediamo se ci ho preso 17 ottobre giorno di nascita giusto? Allora è il giorno dell'equilibrio precario non si sa perché come i gatti nati il 17 ottobre di solito fanno il possibile per alterare sempre in piedi indipendentemente dalle difficoltà e dai pericoli che incontrano sulla loro strada cercano soprattutto di mantenere l'equilibrio dopo va avanti moltissimo ma lasciamo stare i nati Montgomery Cliff Eminem Rita Hayward Arthur Miller insomma nomi che non hanno bisogno di approfondimento insomma in buonissima compagnia sicuro di sé tenace e coraggioso sono i pregi per cui con questo bel quadretto introduttivo adesso insomma possiamo fare una bella una bella chiacchierata direttore generale del Cosmo tra l'altro qualcuno se ne vuole sapere un po' di più lo dico subito www.cosmo.it è un sito che mi sono un po' studiato molto ben fatto molto ben strutturato dedicato a un pubblico vario perché c'ha diciamo molte componenti tecniche e molto orientate ma può essere interessante anche a un curioso come ero io ieri che sono andato appunto a vedere società pubblico privata capitale in prevalenza pubblico insomma 40 anni di storia per proporre una realtà importante sul nostro territorio ma che poi si espande a livello mondiale non è vero grazie intanto per tutte queste ricerche mi ritrovo in questa cosa penso che è un messaggio positivo insomma cascare in piedi vivere sapere vivere nell'incertezza perché oggi è molto attuale quindi sono caratteristiche penso oggi positive ma Cosmo è vero c'ha 40 anni è nato negli anni 80 primi anni 80 con l'obiettivo di essere uno strumento di politica industriale quindi di aiuto allo sviluppo di un settore che è diciamo predominante per il nostro territorio la nostra regione quello del legna arredo è nato ha avuto in 40 anni come tutte le cose hanno tanti tanti momenti di evoluzione ok quindi si è partiti da un'attività prevalentemente più focalizzata in mercati internazionali quindi l'aiuto e il supporto alle aziende per le fiere così via negli anni fine anni 80 la missione è cambiata è diventata una struttura tecnica oggi siamo in un capannulo industriale quindi abbiamo un'area industriale fatta di attrezzature macchine tecnici nella nostra azienda sono quasi totalmente figure tecniche impegnate laureati quindi ingegneri chimici biologi e quindi questa è la nostra competenza il cambio della mission sostanzialmente ha seguito il cambio del mondo perché in effetti se negli anni 80 era necessario consorziare le aziende che lavoravano in un settore comune per dare la possibilità dal punto di vista del consortio di proporsi in blocco e compatti al mercato mondiale adesso a questo punto diciamo che il mondo è cambiato per cui probabilmente e c'è sempre questo tipo di esigenza ma ci sono anche altre esigenze che nascono e che difficilmente l'azienda da sola è in grado di sostenere e supportare per cui voi proponete una serie di servizi alle aziende soprattutto nell'ambito delle certificazioni della formazione tutte di altissimo livello con un obiettivo con una mission che è quella a me mi verrebbe da dire di migliorare il mondo perché comunque quando si punta alla qualità e quando si punta ad arrivarci a livelli di eccellenza si migliora un po' il mondo sicuramente penso che questa parte di tema il tema tecnico sta sempre più diventando determinante anche per i fattori della competitività del prodotto delle aziende sia per i mercati nazionali ma soprattutto internazionali a livello internazionale la normativa tecnica è anche un fattore di barriera non tarifaria quindi molti paesi usano questi strumenti normativi per limitare o frenare le importazioni di prodotti favorire le economie locali quindi è un tema complesso già molto applicato in ambiti diciamo così tecnologicamente più evoluti come non so il settore alimentare farmaceutico che piano piano sono tematiche che arrivano anche nei prodotti di uso più comune quindi prodotti diciamo così del manufatturiero quindi tipici del nostro territorio come le calzature i vestiti e quindi anche l'arredo che è un po' un concetto del sistema moda integrato diciamo così e quindi tutto questo è in realtà un mondo che richiede insomma una specializzazione ed una anche una diciamo così riconoscibilità o accreditamento di livello internazionale perché altrimenti non sei utile al sistema sostanzialmente o non sei considerato un attore del sistema un anello giusto del sistema quindi per noi è fondamentale lavorare in paesi a livello internazionale dalla Cina al Brasile Centro America in Europa obbligatoriamente per poi dare un servizio efficiente a livello nazionale ecco questo è un po' quello che diciamo si impone e si propone è un salto culturale nel senso siamo abituati abbiamo imparato a stare attenti magari a guardare l'etichetta di quello che mangiamo o dell'abito a vedere di cosa è composto tutto quando poi magari andiamo a cercare un mobile da metterci in casa guardiamo altro magari guardiamo il prezzo guardiamo forse solo il design quanto pesa ecco ci sono altri parametri che stanno cominciando a farsi avanti proprio questo è il tema cioè oggi la prestazione tecnica è diventata sta sempre più diventando un fattore che entra anche nelle logiche del processo di acquisto di un prodotto prima era solo un fatto di adeguamento alla normativa diciamo così più o meno stringente di uno stato un paese che oggi i prodotti cominciano ad essere verificati e valorizzati per le loro prestazioni quindi nel mobile quindi nell'arredo diventano importanti tanti fattori anche perché prima di tutto dentro un ambiente chiuso che sia la casa l'ufficio che spendiamo la nostra maggior parte della vita e quindi la qualità dell'ambiente in cui siamo diventa oggi importante oggi ne parliamo anche molto per i virus covid e quant'altro però di fatto la qualità dell'aria che noi respiriamo è principalmente legata agli ambienti chiusi dove stiamo e quindi l'impatto dei prodotti in termini di emissioni di sostanze nocive è potenzialmente rilevante l'arredo inteso come complesso di un ambiente quindi dai pavimenti ai soffitti ai muri fino ad arrivare agli infissi ma poi ai tavoli le sedie le cucine o camere che sia fino al mondo dell'ufficio diventano importanti quindi diventa importante la qualità dell'aria diventa importante il discorso dell'igiene quindi il problema per esempio oggi di dover sanificare gli ambienti significa usare sostanzialmente i prodotti più aggressivi sulle superfici dell'arredo questo vuol dire cambiare la prestazione dei prodotti perché altrimenti il prodotto si scolorisce si macchia si graffia non era stato costruito per quello insomma per questo quindi questi fattori cambiano anche le prestazioni dei prodotti quindi l'igiene diventa un elemento importante fino a quelli basici che sono la sicurezza quindi il fatto che un prodotto sia sicuro sia stabile non si ribalta non si rompe non cade addosso l'armadio non ti cade sul piede il cassetto e di questi ci sono tantissimi esempi di problemi che succedono di danni che si verificano e oggi l'attenzione del consumatore è molto più rilevante che in passato quindi il fatto che e in che modo Cosmob opera in quella direzione cioè voi esattamente concretamente interpreto la domanda di qualcuno che in questo momento ci sta guardando cosa fate? guarda noi operativamente facciamo questo un'azienda prima di mettere un prodotto sul mercato verifica che questo prodotto sia idoneo all'uso e quindi nel nostro laboratorio entrano prodotti finiti materiali componenti accessori e tutto quello che riguarda il mondo dell'arredamento noi prendiamo il prodotto lo analizziamo da un punto di vista tecnico prestazionale in base alle normative tecniche applicabili lo analizziamo per verificare che sia idoneo all'uso quindi che una sedia è idonea una sedia scolastica idonea all'uso scolastico quindi dell'alunno che deve starci a sedere un tanto tempo deve essere facile da muovere deve essere stabile non si deve ribaltare quindi tutto questo è normato da specifiche normative e noi abbiamo poi attrezzature strumentazioni tecniche per verificarne l'effettiva corrispondenza alla prestazione quindi alla fine rilasciamo all'azienda una certificazione e gli consente di presentarsi sia al mercato privato sia al mondo delle gare pubbliche quindi agli acquisti pubblici fatti da ministeri scuole banche i nostri clienti sono la banca d'Italia può sembrare strano però la banca d'Italia le grandi società di diciamo così di consulenza che hanno tanti uffici in giro per il paese le ferrovie dello Stato che devono comprare tanti arredi per tanti spazi che fanno capitolati tecnici nei quali devono descrivere le prestazioni attese del prodotto che compro al di là dell'aspetto estetico colori prezzi che poi sono altri elementi per cui non è insomma quello che è da capire è che non si tratta di mettere in fila un po' di firme su della documentazione ma si tratta di verificare veramente che quella documentazione dica il vero proprio forti del fatto che siete voi a certificarlo c'è anche una corresponsabilità vostra nel certificare certo noi siamo un laboratorio accreditato quindi noi stessi siamo a nostra volta controllati affinché si verifichi che quello che facciamo è effettivamente corrispondente alle metodologie rispetto ai requisiti tecnici delle norme questo per far sì che i nostri rapporti di prova sono riconosciuti nel mondo quindi se uno si presenta dagli Stati Uniti in Europa o in qualsiasi paese che c'è un mutuo riconoscimento tra i laboratori fa sì che le nostre aziende hanno un accesso diretto senza necessità di fare di nuovo verifiche praticamente come viene fatto per le macchine l'immatricolazione le verifiche per le automobili per quelle cose lì ma fate anche cose quelle che si vedono ogni tanto gli stress test aprite e chiudete i cassetti mille volte anche quelle cose lì facciamo soprattutto queste cose qui quindi prove di durata stabilità c'è chi salta sui materassi ci sarebbe chi avrebbe voglia di farlo però in realtà c'è una macchina che lo fa però il materasso è sempre un prodotto ambito diciamo ora abbiamo fatto tante esperimentazioni per esempio stiamo sviluppando delle nuove norme per esempio proprio l'esempio del materasso poi qui entrando in ogni prodotto ci sarebbero mille esempi però per esempio il materasso oggi la normativa tratta del problema della resistenza fisico-meccanica però con più difficoltà riesce a normare l'elemento del comfort quindi quello che è un elemento di comfort per una persona non so di due metri diverso da un metro e mezzo da 80 kg quindi l'elemento comfort è una nuova frontiera da indagare questo giustifica ecco la parte di ricerca e sviluppo che noi abbiamo come centro dove abbiamo numerosi progetti a livello soprattutto internazionale europeo ma anche lavoriamo in paesi facciamo progetti di ricerca in America Latina per dire con istituzioni di livello mondiale per studiare nuove soluzioni soprattutto nell'ambito oggi della sostenibilità sostenibilità e materiali la provenienza dei materiali ma le macchine che vengono usate adesso così sta andando proprio di curiosità niente di quello di cui avevamo parlato ma queste macchine vengono prodotte da voi questa è una bella domanda perché in realtà di queste strutture come Cosmo in Italia ce ne sono due c'è Cosmo e un altro questo determina che sta a Udine quindi questo determina l'assenza del mercato quindi quando noi dobbiamo comprare una macchina nuova non possiamo andare alla fira dice compriamo questo quindi dobbiamo studiare la norma e realizzarcela da subito quindi se uno entra nel nostro laboratorio vede attrezzature strumentazioni di tipo artigianale è fatto di avere nel nostro territorio tanti artigiani che sanno lavorare diciamo così dal metallo diciamo così fino all'informatica all'elettronica oggi la robotica ok questo ci consente di autocostruire le nostre tecnologie e anche di esportarle in alcuni casi avete testato anche voi i banchi a rotelle no penso che Cosmo ha testato l'80% dei banchi a rotelle non chiedo non chiedo un parere sui banchi a rotelle no lasciamo stare che dopo entriamo nel mondo delle opinioni partigiane no no tecnicamente l'hanno passato per cui vuol dire che insomma tecnicamente non generano un danno di sicurezza diciamo così tipo diretto dopo di che su altri aspetti ci fermiamo lì parliamo di altro perché poi il tempo corre e c'è tutto un discorso invece legato alla formazione che voi fate che è molto importante sì ma la formazione apre un tema importante cioè in questo senso nel settore arredamento a livello non solo locale ma a livello nazionale c'è una carenza di offerta formativa dagli istituti tecnici superiori fino alle università è difficile cioè non c'è una scuola specifica per questo sono state tante esperienze però diciamo non c'è qualcosa di strutturato quindi noi abbiamo avviato questo istituto tecnico superiore per il legna arredo ce ne sono anche qui in Italia siamo noi un altro istituto in Brianza è una grande sfida devo dire molto partecipata a livello locale in quanto con noi collaborano tutte le scuole del territorio dall'ITIS di Urbino all'Abramante Genga all'Istituto d'Arte di Pesaro nel Polo 3 di Fano all'Università di Urbino quindi un'attività molto partecipata a partecipare al mondo dell'impresa all'associazione di categoria però diciamo è una sfida che non solo è necessaria ma avrebbe necessità di essere molto più diciamo così sostenuta e spinta perché l'offerta formativa non è tanto la nostra in concorrenza con altri proprio è carente come offerta manca proprio non solo a livello locale diciamo così è un problema anche di stiamo parlando di un percorso post diploma per cui pari diciamo al percorso poi universitario rivolto a chi si è diplomato per cui ha 19 anni circa e che decide di continuare gli studi finalizzandoli a un settore ben preciso per cui come tutti i corsi post diploma ha tutta una sua struttura ore materie laboratori è un corso diciamo molto interessante nel senso che dura due anni ma metà delle lezioni sono fatte in azienda e metà in aula l'istituto ITS oggi è stato anche rispinto diciamo così dal discorso di Draghi stesso come discorso che è un modello insomma un po' copiato dal modello francese tedesco quindi per dire avvicinare i giovani al mondo dell'industria e alla fine quello che tengo a sottolineare è che il giovane che esce da questi corsi non esce con un certificato di frequenza di partecipazione ma è un certificato emesso dalla scuola quindi l'ITIS di Urbino rilascia un diploma di istituto tecnico superiore quindi dentro il percorso diciamo ministeriale di formazione quindi è un percorso serio ecco questo che penso che sia importante da sottolineare voi che ci avete sempre creduto ve l'aspettavate questa sorta di endorsement da parte di un ministro del consiglio e di un presidente del consiglio che nella fattispecie è Draghi però ricordiamo che Draghi ha sottolineato l'importanza di dedicare spazio a formazione legata e finalizzata al mondo del lavoro e dell'industria diciamo che noi adesso aspettare si sperava però pensiamo che sia una cosa necessaria ecco oggi credo che questi strumenti sono fondamentali per avere una reazione a questo momento anche difficile e particolare che si sta vivendo quindi bisogna reagire ma bisogna reagire con delle strategie solide ecco questo penso che sia un tipo d'approccio serio e solido su cui puntare da quanti anni è attivo alla parte noi siamo alla quinta edizione quindi ci sono già diversi diplomati diversi ragazzi però c'è un punto un aspetto importante da sottolineare è necessario che tutti la società i genitori la famiglia capiscono che il mondo della manifattura dell'industria è un mondo che è il futuro diciamo così non è solo il passato e quindi forse si parla un po' troppo di turismo un po' troppo solo diciamo così di turismo piuttosto che di aspetti di servizio che sono tutte cose fondamentali dell'economia però diciamo così la manifattura è stata la base del nostro territorio di crescita e di sviluppo io penso che sarà anche la base del futuro quindi ritorniamo a metterci attenzione c'è questa sorta di sottolineatura che alle volte sembra superflua ma che invece è importante se mangiamo delle cose qualcuno le deve coltivare se compriamo delle cose qualcuno le deve fare allora il mondo giusto è il mondo in cui tutte queste cose stanno in armonia c'è chi si occupa di una cosa chi dell'altra chi dell'altra senza spingere necessariamente per forza con criteri di esclusiva un settore piuttosto dell'altro tutto importante naturalmente con un'azione che poi è quella che voi state facendo ma che tanti altri in altri settori stanno facendo di innalzare la qualità credo che tra i lasciti lo dico abbastanza spesso tra i lasciti di questa pandemia che ci lascia tanti dolori tante tristezze tra i lasciti invece da non trascurare c'è proprio questo la qualità vince la qualità è importante perché permette di tenersi a galla insomma di non soccombere di fronte a tutto questo quello che io credo che oggi penso che molti paesi del mondo noi abbiamo lavorato lavoriamo molto in paesi emergenti poi come ne abbiamo scelto per tante ragioni l'America Latina quindi per essere protagonisti aprirsi dei mercati all'estero lo si riesce a fare se si sa avere qualcosa di differente diciamo così di attrattivo ecco l'attrattività è uno degli elementi oggi fondamentali i fattori tecnologici di cui quindi la conoscenza tecnica il saper fare il sapere tecnico il made in Italy che poi si riacchiude un po' in questo è un fattore su cui puntare per essere attrattivi e questo penso che e quindi strutture come queste che diciamo vengono richieste la conoscenza tecnica è un bene che diciamo a livello mondiale viene chiesto ecco quindi questo è un modo anche per attrarre nel territorio operatori attori di livello internazionale questo con tutto quello che ne comporta è un po' quello con cui quando ci siamo sentiti al telefono avevamo un po' aperto che poi in realtà adesso a cui dedichiamo la chiusura perché siamo già incredibilmente in chiusura noi siamo abitati a comprare un computer e sapere quali sono le caratteristiche e che cosa può fare siamo abituati a comprare altre cose nelle quali ci aspettiamo l'automobile qual è la velocità poi invece ci sono dei settori nei quali invece il concetto di prestazione del prodotto passa in secondo piano voi siete impegnati per far tornare il concetto di prestazione invece rilevante anche in tutto il settore in comparto dell'arredo è importante questo noi abbiamo fatto anche degli studi insieme all'università di Urbino con cui collaboriamo in maniera particolare per cercare di capire quali sono i fattori che determinano l'acquisto di un prodotto d'arredo quindi il discorso del design del prezzo soprattutto sono gli elementi principali però diciamo che e quindi tutto quello che riguarda la prestazione la funzionalità la sicurezza la salute sono elementi che non entrano in gioco questo implica un cambiamento di approccio quindi sia dal lato del venditore dell'impresa del suo negozio che propone il prodotto sia dal lato del consumatore quindi io credo che il consumatore è interessato ad essere più informato su quello che compra quindi è una nuova sfida che ci consente anche di poter dimostrare che i nostri prodotti sono migliori di quelli che ci arrivano da certi paesi dove i controlli sono meno pressanti diciamo così abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo assieme ad Alessio Giaccarini direttore generale del Cosmob proprio a questa maggior sensibilizzazione e attenzione alle prestazioni del prodotto di cose che sono nelle nostre case e tra l'altro quando le compriamo poi ci stanno anche parecchio tempo insomma e noi ci stiamo in quelle case parecchio a convivere il tempo è scaduto grazie per essere stato con noi se ci sono degli aggiornamenti delle cose noi ci siamo sempre Casa Rossini è sempre a disposizione e ringraziamo dunque Alessio Giaccarini grazie veramente tanto per averci illustrato tutto quanto nei dettagli ci interrompiamo di nuovo con un momento musicale il momento musicale è dedicato al video Black Sea dei Light Years Away è un duo pesarese un video girato in Islanda con delle immagini bellissime torneremo subito dopo con Gabriele Bonci sindaco di Fossombrone restate sempre con noi grazie ancora Alessio grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti